Qual è lo sport che ha valori e ha valori importanti? Noi partiamo sempre da un principio, secondo me, sbagliato. È quello dello sport che dentro di sé ha valori e ha valori importanti. Dentro lo sport valori non ce ne sono. Come tutte le attività umane, se noi questi valori ce li mettiamo, allora lo sport trova questi valori e valori importanti. La storia ci racconta di periodi lunghissimi nei quali questi valori nello sport non c'erano, anzi venivano allo prati per altri obiettivi. E quindi sta all'uomo che in tutte le sue attività può mettere valori importanti sul piano morale, metterli anche nello sport e se ci impegniamo in questo è possibile. Un premio giornalistico come quello che Estra sostiene può aiutare in questo percorso? Molto, molto perché i mezzi di informazione sono quelli che portano il pensiero e raggiungono la comunità, quindi questo è importante.